buongiorno da sandro faccio vedere questa bellissima stazione della ferrovia retica allarghiamo la bacheca e campo colonio la prima stazioncina dopo la stazione di tirano che prosegue verso saint moritz guardate che bella stazioncina tutta in ordine e molto moderna questo è il distributore per fare i biglietti molto comodo e qui entriamo nella sala d'attesa la sala d'attesa della stazione di campo colonio del passato e la stazione di campo colonio una stazione del passato saluti da sandro